Pronto? Ok allora questo qua sono gli ultimi due cd di Chiapparezza che sono le dimensioni del mio Chaos e Abemus K. Nice. Abbiamo allora questo qua che è il suo terzo album che è uno preferito anche questo poi abbiamo questo che è il suo quarto album credo sì mi confondo sempre dai apriti apriti sesamo ce la facciamo ce la facciamo allora qua abbiamo guardato come lavora luigi allora metti a fuoco non lo mette la rivoluzione se si intutto ulisse non mettere le mani in tasca pimpami la storia il aria condizionata la grande opera viene a ballare in puglia a biura di me cacca nello spazio il circo delle pantegane un vero uomo dovrebbe lavare i piatti io diventerò qualcuno eroe bonobo power e dentro c'è carino carino con il metro incredibile ma guarda ma perché sta tutto sgaggio sempre sui divani sulle varie cose questo è molto a tema con l'album si nota per chi conosce l'album qua abbiamo i testi e basta con basta i testi semplicemente con il metro come pattern in giro molto carino dai chiuditi mettiti a posto fai le cose stupido sì e poi c'è questo abbiamo scappa che ha mors mea tacitua annunciatemi al pubblico torna catalessi gli insetti del podere dalla parte del toro ninna nanna di mazzarò il silenzio di colpevoli profilo psichico la mia parte intollerante inno verdano epocalisse ti ian the audital family ti giri titoli felici matrimoni sas sono troppo stitico abemus capa eccolo qua bello con le mani incredibili e qua c'è capa che urla incredibile la goione niente lo fa veramente mi ostino a tirare fuori il libretto ma ci saranno solo i testi però sono curioso di vedere com'è ovviamente vabbè tutti i testi niente questo non è niente di che in realtà tutto a sfondo giallo poi c'è capa che fa i'm dark perchè è nel buio della siepe però lui ci è arrivato oltre la siepe non come leopardi sfigato ok quindi adesso possiamo prenderli e metterli in ordine caparezza verità supposte le dimensioni del mio caos abemus capa il sogno eretico mosaic prisoner 709 e xuvia che deve uscire finalmente i have all of them e niente mi sento soddisfatto ma ora abbiamo l'ultimo pacco che dovrebbe contenere due oggetti in teoria deve arrivare un altro un altro pacco oggi però non hanno trovato casa mia in pratica quattro pacchi si hanno trovato casa mia quello la no è stupido secondo me non aveva voglia di lavorare il corriere infame allora eccolo qua questo più easy da aprire circa delle pantegane apriamo ed abbiamo aia madonna santa eccolo qua ma solo uno no ecco sono due signori e signori abbiamo questa bellissima scheda madre che non si vede spero si veda dietro un'immagine è una scheda madre cosa volete che sia allora è una scheda madre della z 490 a pro è messa è messa fa le cose che fa una scheda madre se la colleghi se la colleghi bene allora qua abbiamo altre cose che io so ovviamente qua c'è scritto core boost vuol dire che il tuo cuore proprio parte a mille quando la installi extended hat sync design vuol dire che se tu butti una candela nel lavandino fai male poi hai hai la potenza di due computer addirittura due cpu ma si legge pc non cpu perché io fidatevi di me poi abbiamo lo shield nel senso che quando hai bisogno di assistenza chiami nick fury eccetera e loro ti aiutano poi abbiamo 2,5 g di lan vuol dire che lan predisposto per non il 5 g il 2,5 g che è più forte poi abbiamo layer flow optimize vuol dire che l'aria c'è e non poca e poi c'è l'usb di tipo c che è utile perché io carico il telefono con l'usb di tipo c e poi dai friendly nel senso che se ti dici dai bravo amico così amichevolmente lui funziona meglio altre cose che non ho visto spiegare anche questo l'andremo aprire poi e infine no in realtà infine niente perché mi mancano tre cose di cui una è la scheda video che mi mi presterà un amico mio che non si chiama paolo e questo qua invece è l'alimentatore e niente è un alimentatore fa le cose di un alimentatore anche lui alimenta utile perché se no il pc non si accende almeno quello che mi hanno detto quelli dello shield e niente questo è un sharkoon e basta 650 watt e altre cose che fermate il video per guardarle se avete voglia non interessa e basta bella tutti appena mi arriva il case la pasta termica e mi becco col mio amico e montiamo il pc e piango per aver speso 1500 euro